Location da P.A.U.R.A. Paura Oh, ciao! Location da P.A.U.R.A. Location da P.A.U.R.A. Location da P.A.U.R.A. Mi arrampico, mi insinuo, gioisco, è la luce di una furia impazzita che mi spinge oltre le mie stesse forze. Ho rotto ogni catena, il reale non mi interessa più, non mi ha mai interessato e sono sempre stata costretta a subirlo. La comunicazione si sviluppa prettamente sul piano di una reciprocità empatica, fatta di occhiate, intuizioni e sorrisi. No, non so più il caffè. No, non so più il caffè. Tutto pronto. No, non so più. No, non so più. No, non so più. Attenzione, attivo, micro testo, tutto è possibile, sperazione e tempo, tutto è possibile. Sopra, ripongo molto speranza in questa regione, di socializzare, di conoscere gente. Non so, sento che c'è una buona onda. Sei venuto con gli amici o... No, io sono venuto da solo, sono venuto qui nella speranza di farmi dei tuoi amici. Se vuoi fumare. Grazie. Esploro. Sambato sera, domenica mattina, domenica pomeriggio. Sambato sera, domenica mattina, domenica pomeriggio. Mi perdo, ho rotto un retina e non mi interessa più. Reale non mi interessa più. Avversione Di vostro reggico numero 3 Tutto il motore di ragionamento Di innescare dispositivi di polizia Vivere gratis Vediamo che arriva Vediamo che arriva MTP, che cazzo di uomo? Di fronte, di fronte, di fronte 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 Vediamo che arriva Grazie a tutti Grazie a tutti Sei felice? Sei felice? Non esageriamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.